Ma Francesco Petrarca era cosciente dell'enorme potenziale che il canzoniere possedeva? È veramente difficile rispondere a questa domanda perché, come sappiamo, a differenza di Dante, Petrarca mise sempre in primo piano il latino e le proprie opere scritte in questa lingua rispetto al volgare. Dialogando con Boccaccio definì questa raccolta di poesie quasi come uno scherzo, una sorta di esercizio di stile. Non a caso il titolo originale di questa raccolta di poesie, che oggi chiamiamo canzoniere...